ciao ciao amici come sempre sono qua a tenervi compagnia sono il carletto questo il mio canale dove vado a recensire statue o toys doll cavalieri dello zodia con mit cloth robot shogokin action figure figure gashapon tutto quello che è il mondo del collezionismo e oggi per noi collezionisti vada a recensire che è andata a ruba non la trovi da nessuna parte la gente gira e dico la destra sinistra perché perché ne comprano anche due o tre ogni persona perché è veramente stupenda guardate qua è la prima uscita della d agostini vedete che va a formare l'aeron man praticamente la mark 3 di ben 60 centimetri d'altezza ma la cosa bella di questa prima uscita che a un euro soltanto ragazzi guardate qua ci hanno messo praticamente scusate tutto il l'elmo tutta la testa completamente in metallo che solo ragazzi questo cacciavite vedete questa cacciavite negli store cinesi in quei posti lati costa 2 euro e noi tutta sta roba qua la paghiamo un euro qua secondo me la di agostini la doveva mettere alla fine a 10 euro perché cosa succede tutti si comprano questa la tengono anche sulla scrivania perché è veramente bella completamente in metallo e quindi che dire siccome il mio amico l'ha già montata adesso l'apro anch'io la vado a montare poi apriamo il libretto di istruzione vi faccio vedere come viene montata perché veramente è eccezionale il migliore euro speso che potete mai spendere alla fine l'unico euro speso meglio se vincete al super enalotto però che costa un euro allora diventata miliardarie che dire qual è l'euro miglior speso della vita se no dopo viene veramente questa uscita della di agostini perché per un euro è veramente incredibile non è in plastica ragazze tutto in metallo pesa un sacco e dopo la andremo a pesare allora apriamo la montiamo lei poi vi faccio vedere libretto di istruzioni cosa c'è dentro e come viene alla fine montata dai andiamo a montare ragazzi veramente l'euro speso meglio di così non si poteva andiamo a vedere subito libretto cosa troviamo all'interno troviamo le alcune anticipazioni vedete del film quello che racconta la storia di iron man 1 vedete fatto veramente bene anche libretto guardate qua poi qua troviamo tutti i pezzi che troviamo all'interno come andiamo a montare il l'elmo che devo dire la verità la testa qua di iron man è semplice da montare solo questa parte qua dove dobbiamo andare a mettere il led mi ha dato un po di difficoltà è un quarto d'ora 20 minuti ci mettiamo a montarlo tutto ragazzi poi qua c'è anche la storia del fumetto allora troviamo questo poi troviamo questo praticamente fascicolo che ci chiede di fare l'abbonamento a tutte le uscite loro se fai l'abbonamento ti regalano questi gadget vedete c'è veramente un sacco di cose poi troviamo questo foglietto qua dove vediamo la parte del petto ma la cosa bella veramente questo qua perché ragazzi qua vediamo c'è tutto e praticamente i regali le cose come abbiamo visto anche prima ma oltre a quello si apre e c'è un poster che adesso vi faccio vedere così in due parti fatto veramente veramente bene questo poster ragazzi è fatto veramente bene e che dire veramente un euro speso benissimo perché non me l'aspettavo anche il poster solo il poster vale un euro poi guardiamo alla fine una volta montata la testa che è stupenda tutta massicce ci rimarranno qualche vite aggiuntiva che loro bravi hanno messo in più e cacciavite all'interno troviamo anche la fila vedete questo è solo il cartonato io l'ho già messo e vi voglio far vedere subito questa cosa perché è totalmente in metallo quindi vi voglio far vedere quanto pesa ragazzi guardate qua allora è andata a farsi benedire la bilancia vediamo se riusciamo a pesarla bene guardate 202 grammi completamente in metallo guardate adesso ve la faccio vedere bene guardate qua che spettacolo luminosa bella non ha difetti qua abbiamo l'interruttore giriamo la rotella guardate hanno nascosto l'interruttore qua di lato guardate che bella cosa noi praticamente giriamo qua e si spegne si accende guardate è tutta tutta in dei casti in metallo guardate questa acqua veramente un euro è impensabile anche perché non la possa mettere così in vetrina se abbiamo un iron man dello toys o comunque sia un altro iron man modellino con gli occhi accesi sta veramente veramente bene vedete la parte frontale qua si tiene col magnete vedete vedete all'interno qua c'è il sistema che tramite questa levetta qua che troviamo di lato va a scendere gli occhi vediamo se adesso senza su ad accenderlo eccolo qua vedete al di sotto ci sono i due led che si attivano tramite una lavettina che c'è sotto la parte destra qua della testa viene mantenuta su vedete da queste due calamite grosse si mette prima la parte in basso e poi quella la in alto vedete sta su benissimo e l'idea proprio anche di nascondere vedete il led sotto qua quindi non avere pulsanti non avere niente una figata vedete noi lo accendiamo lo spegniamo da questa rotellina laterale ha fatto veramente un gioiellino che lo consiglio a questo qua essendo tutto in die cast in metallo questo quando anche se usciva 10 15 euro era anche lo stesso poco ragazzi perché con tutto il kit dei led i kit il cacciavite e tutto l'elmo in metallo anche a spenderci 10 15 euro ragazzi era veramente poco per quante grande perché questa ricordiamo è una scala più grande dell'otto s perché qua si parla di una scala da praticamente un quarto un quarto di scala guardate qua fatto veramente bene fatto veramente bene potete vedere non ha neanche difetti di verniciatura niente niente quindi veramente 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 bello eccolo qua amici vediamolo girare tutta la sua bellezza perché è veramente bello non gli ho riscontrato difetti vedete fatto veramente veramente bene verniciatura perfetta incastro dei pezzi perfetti materiale ottimo l'idea di nascondere l'illuminazione degli occhi sotto questa levetta che c'è l'interruttore anzi accendiamolo vediamo se riusciamo così movimento ok scendiamogli anche gli occhi vediamo in giro così con gli occhi veramente bello bello il migliore euro che si può spendere ragazzi non so veramente come hanno fatto a stare dentro l'euro perché è praticamente impossibile vista anche il materiale completamente india cast non so veramente che dire c'è questa qua ragazzi un peccato che adesso già non si trova più perché questo andrebbero prese anche due o tre pezzi da tenere lì così in scrivania perché una scrivania e una in vetrina perché è veramente secondo me è veramente bello fatto realizzato dalla di agostini veramente bene non si direbbe neanche che un prodotto dedicolo perché questo poi veramente eccezionale ragazze e che dire amici questa testa colto nel segno veramente la di agostini ci ha fatto un gioiellino completamente india cast in metallo e vi ricordo che alla fine di tutte le uscite avremo un iron man di 60 centimetri però il costo è un po altino perché se non ricordo male siamo tra i 6 800 euro comunque non vorrei dire un erese non ho fatti i calcoli di tutti i numeri e di tutte le uscite però non costa poco sicuramente quindi se abbiamo la possibilità consiglio di proseguire e fare tutto il modello siccome una scala un po troppo grande io dico la verità io non lo farò il modello ho preso due teste che tengo così perché non lo farò perché io le otto is che scala un sesto queste scala un quarto quindi poi in vetrina stona rispetto a tutti gli altri iron man però per chi non ha le otto iso comunque per chi vuole avere anche questo gigantesco lo consiglio veramente consiglio anche solo la testa alcuni dicono e ma la paghi adesso anche 10 euro 15 euro vendono sugli e commerce si sa a prezzi maggiorati però veramente ragazzi questa qua li vale veramente secondo me è veramente un bel pezzo che anche a trovarlo a 10 15 euro secondo me è veramente poco per la fattura per come è fatto bene questa testa di iron man è fatta veramente veramente bene e materiale veramente ottimo qua ha fatto una piccola opera d'arte un piccolo gioiellino la di agostini devo dire la verità allora un saluto dal carletto spero che questa recensione vi sia piaciuta se avete i soldini fatelo tutto dal primo all'ultimo numero perché sarà veramente eccezionale questo iron man qua secondo me e quindi se ne avete la possibilità fatelo tutto se non beccatevi solo la testa perché è veramente bella anche da tenere in scrivania illuminata a me piace un sacco come dico sempre se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale andando in alto quando esco io adesso con il guanto di tanos cliccate sopra iscriviti attivate la campanellina così trovate tutte le cose che magari non conoscete poi le potete recuperare ma soprattutto anche a questo video se vi è piaciuto pollice alzato like un saluto dal carletto alla prossima recensione ciao